e c'è la rete un gol che è in buona posizione Bernardo Silva e c'è il gol il pressing ha funzionato qui benissimo ha scelto le maniere forti, attenzione può arrivare il rosso arriva il cartellino rosso per lui giusta la decisione una soluzione interessante ma grande sicurezza Mané a metri per andare aveva diverse opzioni qui ha optato per la soluzione di potenza con Pell fanno girare il pallone molto bene il cross nel mezzo per Mané e sono avanti è uno scenario clamoroso considerata l'espulsione Diogo Iota occasione può mettere da lì si porterà più due con questo gol un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente la scena palla per Mané palla molto interessante ma come ha fatto a sbagliare non ci posso credere pieno cosa? come? non ha dubbi l'arbitro potrebbe riaprirsi la gara calcio di rigore l'arbitro ha commesso un brutto fallo potrebbe andare anche peggio è un gol fondamentale per il risultato che può cambiare il volto al match stiamo assistendo a un match davvero emozionante su un risultato di 3 a 2 possesso ha perso provano a caccia del gol del pari ma non è perso è finita un ottimo risultato per la squadra ospite che torna a casa con i 3 punti si sono imposti col minimo scarto è vero il film